Una nuova edizione del premio Burano, siamo qui con Emilio D'Este che ci racconta la collezione di quest'anno. Sì, come mostra, noi abbiamo iniziato il concorso a giugno con Invito al Colore. Da Invito al Colore presenti un settantino di artisti e la giuria ne ha selezionati 23. Questi 23 si presentano oggi con due opere, ognuno, al premio Burano di pittura che è la terza edizione, rinnovata, diciamo così, perché il premio Burano si è svolto in vari periodi. La prima inizione era nata negli anni. Voglio parlare del premio Burano, che è il premio nazionale, istituito nel 1946 dal primo sindaco Giovanni Ponti, che per dare, per fare un omaggio all'isola di Burano in quanto ha ospitato personaggi come Semeghini, come Gino Rossi, Moggioli e tanti altri pittori. Ecco, ha voluto fare un omaggio a Burano creando questo premio Burano. Quindi, assieme a artisti e amministratori, insomma, hanno la prima edizione del 1946 con altre tre edizioni ripetute negli anni fino al 1956. E poi? Poi si è fermata. Noi, un'associazione, non associazione, un comitato abbiamo creato. Siamo trovati, io ero attualmente delegato del sindaco e parlando con il dottor Rino Bassan, che è un medico che è stato molto anni, medico con tanti anni da noi, appassionato di musica, appassionato d'arte, appassionato di una persona socievole in tutti i campi, ecco, assieme anche a Romano Barbaro, assieme a Velani Marchi, artista, che abitava a Burano ed ha voluto rimanere anche dopo il decesso a Burano, abbiamo fondato questo piccolo premio Burano di pittura. Siamo andati avanti dieci anni, piccolo premio Burano, e poi io gli ho detto, beh, facciamo, siccome che si lamentavano, tanti dicevano piccolo premio Burano di pittura, e siamo andati così. Le edizioni importanti, sì, sono quelle del 1984 fino al 1991, e abbiamo fatto quattro edizioni molto importanti, in quanto che, soggiornando a Burano, il delegato generale della Banca Cattolica, un armello, il dottor Pazzo Gilga, molto appassionato dell'isola, ecco, ci ha dato la possibilità di creare, ritornare a, non al premio Burano, ma rinnovarlo, insomma, qualificandolo, che quindi, conoscitore dell'arte, ha portato a Burano nel ripozza, ha portato a Burano dei premi attraverso le amministrazioni comunali e regionali. Quindi, poi, nel 1991 si è fermato di nuovo, è nata dopo l'Associazione Artistica e Culturale, come c'era, e, tanto per dare un nome, per creare, insomma, da comitato, siamo facendo un'associazione. Questa associazione ha inventato la parola invito al colore, invito al colore tutti gli anni, e poi, nel 2008, abbiamo detto, ripetiamo, vediamo se ripetiamo di nuovo il premio Burano di pittura. Ci sarebbe da dire due cose molto importanti, ecco, che abbiamo due ostacoli enormi. Uno degli critici d'arte che snobbano, in qualche modo, la nostra pittura, nel senso che noi vogliamo creare e mantenere, con questo nome, il premio Burano, vogliamo mantenere il tema, diciamo, riservato alla valorizzazione della Laguna Veneta, non quanto Burano solo, valorizzazione della Laguna Veneta attraverso l'arte, ecco, e che vuol dire casette, vuol dire acqua, vuol dire barche, ecco, e che invece agli attuali, attuale arte contemporanea, i critici non va bene, insomma, dice basta casette, basta laguna, basta barche, insomma, cercate di adeguarvi. Noi diciamo no, noi non vogliamo adeguarci e siamo disposti, anche abbiamo detto, se ritornassi il premio Burano, accedere all'argomentazione. Noi abbiamo, diciamo, la fiammella ha sempre accesa per ricordare l'argomentazione che si è fatta, che si aspetta sempre.